riunione in procura a palermo dopo il tentato omicidio di nicolò salto a borgetto incombe la faida nella valle de lo iato in guerra il super latitante di alto fonte domenico raccuglia tra palermo e la sua provincia si addensano le stesse nuvole come quando dopo l'omicidio di nicolò ingarao il delitto del presunto capo mafia di porta nuova il 13 giugno del 2007 fu l'atto di dichiarazione di guerra di salvatore lo piccolo contro il gruppo nemico capeggiato da nino rotolo poi totò il barone è stato arrestato e la faida è stata interrotta bruscamente dai poliziotti della squadra mobile che hanno assediato il covo di giardinello la mattina del 5 novembre adesso un altro temporale si solleva minaccioso sui cieli di palermo verso il triangolo di san giuseppe iato borgetto e parti nico dove in ospedale è ricoverato lui nicolò salto e in prognosi riservata sabato sera gli hanno sparato tre colpi di pistola calibro 9 poi sono fuggiti pensando che fosse morto e invece no i medici hanno estratto due proiettili dalla spalla destra e uno dalla gamba e lui è vivo ha 53 anni e gli ultimi 11 fino a giugno li ha trascorsi in carcere per associazione mafiosa in procura il capo francesco messineo ha riunito i colleghi della direzione distrettuale antimafia così come dopo l'omicidio di ingarao secondo gli inquirenti infatti l'agguato di borgetto è una battaglia della guerra per il controllo del territorio che si è scatenata ormai da mesi tra le clan giambrone e il boss latitante mimmo raccuglia a cui sarebbe legato nicolò salto lui domenico raccuglia è originario di alto fonte a 44 anni è stato già condannato all'ergastolo ed è inserito nella lista dei 30 latitanti più pericolosi di tutta italia raccuglia sarebbe un colonnello dei fratelli vitale fedeli corleonesi adesso in carcere ed è tra i boss palermitani più ricercati insieme a gianni nicchi e giovanni motisi indagini complesse si tratta di capire costruire collegare un mosaico di eventi un tassello dopo l'altro a borgetto lo stesso paese di nicolò salto il 31 ottobre del 2007 è stato ucciso antonino giambrone un egommista di 36 anni nipote del presunto capo clan giuseppe giambrone ritenuto già alleato di salvatore lo piccolo e fedele a provenzano pochi mesi prima il 15 luglio del 2007 a parte nico è stato ucciso giuseppe lo baido anche lui di 36 anni imprenditore ritenuto vicino a domenico raccuglia e il 12 febbraio scorso a parte nico sono stati uccisi due fratelli imprenditori giuseppe e giampaolo rina di 37 e 31 anni figli di salvatore rina ucciso il 19 giugno del 98 perché in contrasto con il clan dei fratelli vitale adesso dopo il tentato omicidio di nicolo salto fischiano tante altre orecchie